E' un'iniziativa molto partecipata, qui siamo in una provincia forte dell'agricoltura, un'agricoltura anche molto competitiva, ho rassicurato sulla sburocratizzazione e sulla semplificazione che abbiamo messo in campo, abbiamo anche parlato dei vecchi bandi, della necessità di voltare pagina, della recente delibera che abbiamo approvato in giunta per lo scorrimento di gradatoria per i primi insediamenti dei giovani. Insomma stiamo cercando di affrontare un po' tutte le questioni per rilanciare l'agricoltura in questa regione, l'agricoltura fatta di imprenditori davvero in gamba che riescono davvero ad essere competitivi nonostante tutto. Se a queste condizioni aggiungiamo un po' di accompagnamento da parte delle istituzioni della regione Campania daremo a loro la possibilità di affrontare meglio i mercati, soprattutto in questa zona che regista un tasso davvero elevato di competitività.